Il gioco serve per abbattere qualsiasi muro, qualsiasi frontiera tra paese. Infatti i giochi che noi proponiamo saranno abbinati a dei paesi diversi del mondo. Il disegno al Giappone, il percorso con i sacchi all'Egitto, è gioco senza frontiere, il tema centrale della quindicesima edizione di Tucojo, il festival dei giochi inventati. Una a due giorni in cui Monastier si veste di colori diventa un giro dell'oca a misura di bambino. Alzi la mano a chi non è mai stato al Tucojo. Bene, allora spieghiamo. Chi si gioca e ci si diverte. Una manifestazione così necessita di un gran lavoro di molto tempo. È quasi un anno che ci lavoriamo, ma la grande forza di questa manifestazione sono i volontari, che sono più di 300, che non mettono solo il loro tempo, ma anche il loro entusiasmo, la loro fantasia, la loro creatività nel creare non solo posti di gioco, ma anche attrazioni vere e proprie. Dai giochi dedicati ai più piccoli alle canoe, tante le attività che hanno coinvolto grandi e piccoli, in migliaia, arrivati anche da fuori regione per non perdersi l'avventura di un gioco senza frontiere. Grazie a tutti!